con cavalli che stanno ultimando, hanno già ultimato le false partenze e quindi devono solo attendere che il countdown arrivi allo zero, mancano 20 secondi e quindi si può andare. Il betting è per celebrità par, che sul capo gioca intorno al 2,75 nei confronti del 3,75 di Cannibal e del 5. Per quanto riguarda invece Crystal DSE, anzi 6,5 pulito, quando l'auto start si muove e quindi i cavalli vanno a perfezionare l'allineamento. 200 abbondanti al lancio, leggermente discosto dall'ala Cannibal, il numero 7. Si ritrae il Continental CR che poi sbaglia. Stacco che avviene in questo istante con Celine Dalvio che va a chiedere il comando delle operazioni, ma poi arriva subito Crystal DSE che rileva la tessera corsa e affronta la prima curva da leader nei confronti di Celine Dalvio, poi con il 6 Clodin con il 7 Cannibal. Così dopo la piegata si arriva ai 400 metri che Crystal DSE chiude nell'ordine del 29,8. Clodin che va al suo sediolo e vorrebbe ottenere il via libera, sembra intenzionato a concederglielo Lucio Becchetti, 600 che vanno via nell'ordine del 44 per Clodin che è il leader. Rimane così aria in faccia a Cannibal quando si va ad affrontare la seconda curva con l'anticipo di Clio del Circeo su celebrità par, metà gara nell'ordine del 59,5 per Clodin che è il leader, sempre nei confronti Crystal DSE e Cannibal, poi più indietro gli altri con Celine Dalvio che ha provocato un po' un arresto a quelli alla corda. 1,14 e mezzo il passaggio al chilometro per Clodin che continua a condurre quando si va ad affrontare la piegata conclusiva Cannibal, Kelly, Crystal DSE alla corda, poi Clio del Circeo e poi celebrità par, questi seguiti da Seagulls Go quando si va a completare la piegata con Clodin ancora al comando, Crystal DSE che lì cerca lo spazio, Cannibal che è richiesto dal proprio interprete, si allarga un po' Clodin e allora Crystal DSE che prova a bucare di dentro, poi allarga per intervenire gli altri, ma Crystal DSE accolto l'arco propizio, Crystal DSE che viene a vincere nel finale nei confronti di Cannibal e Clodin. 1,59 e 9, due minuti per Crystal DSE, Lucio Becchetti torna al successo, la figlia di McGrace SM e pensami B, manda via Clodin dopo aver rilevato la posizione di testa e nel finale riesce a trovare la corsia preferenziale all'interno per avere la meglio sugli avversari. l'1 al primo posto, il 7 di Cannibal in costante proiezione esterna, al secondo posto il 6 di Clodin al terzo, 1,15, scarsi, 1,14,7 la media al chilometro. È tutto per il convegno odierno di corse, l'Ippogno di Capannelle vi saluta e augura la buona serata con l'appuntamento alle prossime giornate di corse, venerdì 23 per il Galoppo, sabato 24 per il Trotto, a voi tutti la più cordiale e buonasera.